Ciao a tutti e ben ritrovati in questo ultimo video riguardante la trasmissione di calore questa volta come vedete per il raggiamento termico accenneremo ad alcuni concetti questa volta non vedrete niente scritto, vi parlerò io quindi anche se la mia voce non vi piace vi pregherei di ascoltarmi con attenzione, cercherò di parlare piano e in modo tale che mi possiate sentire sono argomenti sia la trasmissione di calore per convenzione l'ho già detto, sia questa per il raggiamento che potete trovare anche in altri corsi come per esempio quello di fisica tecnica, anche perché qui accenneremo all'erraggiamento visto che qui dovremmo aver trattato anche il concetto e l'argomento riguardante le onde che al contrario non abbiamo per il momento ancora trattato quindi cercherò di esporvi l'argomento in maniera più sintetica possibile e in maniera più chiara possibile che cos'è l'erraggiamento, l'abbiamo già accennato, rappresenta il trasferimento di energia che avviene attraverso onde elettromagnetiche o eventualmente fotoni che sono prodotte da delle variazioni, delle configurazioni elettroniche delle molecole e degli atomi radiazione, la radiazione sappiamo che si propaga o nel vuoto oppure in un qualunque mezzo di trasmissione trasparente alla radiazione fu Hertz verso la fine dell'Ottocento a dimostrare l'esistenza delle onde elettromagnetiche che fossero in grado di trasportare energia chiaramente le onde elettromagnetiche sappiamo viaggiano a una certa velocità chiamata velocità della luce che si indica con la lettera C di Cagliari, C minuscolo e sono caratterizzate da una certa frequenza che sappiamo si indica con Ni e da una certa lunghezza d'onda lambda proprietà che sono legate dalla seguente equazione, la seguente relazione la lunghezza d'onda lambda sappiamo essere data dal rapporto tra C velocità della luce e la frequenza Ni chiaramente tutto questo avviene nel mezzo in cui si propaga, nel mezzo di trasmissione io vi ricordo che l'unità di misura della lunghezza d'onda lambda non è il metro ma è il micrometro dove vi ricordo che un micrometro, ma questo lo sapete sicuramente equivale a 10 alla meno 6 metri la frequenza di un'onda elettromagnetica al contrario di quanto accade sia per la lunghezza d'onda lambda che per la velocità di propagazione C dipende solo dalla sorgente è invece indipendente stiamo parlando della frequenza per frequenza intendo evidentemente il numero di oscillazioni al secondo è assolutamente dipendente solo dalla sorgente mentre non dipende dal mezzo entro cui, attraverso cui si propaga allora è interessante notare come la radiazione termica cioè le onde elettromagnetiche emesse è dovuta ai moti rotatori e vibratori delle molecole degli atomi, degli elettroni che ovviamente fanno riferimento compongono, costruiscono ogni tipo di sostanza è interessante notare come questa radiazione termica occupi quella parte dello spettro elettromagnetico che va da circa 0,1 micrometri a 100 micrometri radiazione termica che include sia l'intera radiazione visibile e l'infrarossa e anche parte della radiazione UV ultravioleta la luce è quella parte visibile dello spettro elettromagnetico che sappiamo essere compresa sappiamo, ve lo dico io è compresa fra, chi lo sa, insomma tra 0,4 e 0,76 micrometri la luce chiaramente poi ci sono ci sono i vari colori se per esempio vi dico, non ve lo descrivo ma sappiate che il violetto è tra i 0,4 e i 0,44 0,40 e 0,44 micrometri il blu 0,44 e 0,49 micrometri il verde 0,49 0,54 micrometri il giallo 0,54 0,60 micrometri l'arancione 0,60 0,73 micrometri il rosso 0,73 0,76 micrometri ad esempio faccio notare che il colore di una superficie dipende dalla sua attitudine a riflettere determinate lunghezze d'onda e ad esempio una superficie appare rossa se evidentemente riflette delle radiazioni nel campo di lunghezze d'onda comprese, ripeto, tra 0,63 e 0,76 micrometri la superficie bianca la superficie bianca è una superficie che riflette tutta la luce incidente quella nera è una superficie che assorbe tutta la luce incidente un corpo che emette radiazioni nel campo visibile è chiamato questo corpo sorgente di luce la radiazione solare, ve lo ricordo la radiazione solare è quasi tutta compresa nella banda di lunghezza compresa tra 0,1 e 3 micrometri quindi è quasi per metà luce visibile per la rimanente parte è radiazione ultravioletta e infrarossa c'è ovviamente quando parliamo di radiazione infrarossa intendiamo la radiazione emessa radiazione infrarossa e la radiazione emessa dai corpi che si trovano a basse temperature e nello spettro che va da i 0,76 ai 100 micrometri solo a temperatura superiore parliamo di 800 kelvin i corpi iniziano a emettere radiazioni visibili in quantità apprezzabili per esempio nelle lampadine incandescenza il filamento intuxteno che avete visto per diventare luminoso deve essere riscaldato a 2000 circa 2000 gradi kelvin la radiazione ultravioletta invece è quella radiazione che occupa il campo delle basse lunghezze d'onda dello spettro di radiazione termica tra 0,01 e 0,40 micrometri sono da evitare evidentemente i raggi ultravioletti perché dannosi agli esseri umani e agli organismi viventi vi faccio notare come il circa il 12-13% della radiazione solare al di fuori dell'atmosfera è nel campo ultravioletto pertanto sarebbe evidentemente devastante se raggiungesse la nostra Terra lo strato di ozono o 3 nell'atmosfera fa da scudo proprio protettivo assorbendo la maggior parte della radiazione ultravioletta extraatmosferica recentemente sono stati scoperti dei buchi proprio dello strato di ozono questo fatto ha evidentemente indotto la comunità internazionale a bandire lo sappiamo l'uso di sostanze schimiche di un certo tipo che andavano a distruggere l'ozono il freon 12 ma queste cose le sapete già chiaramente nello studio della trasmissione di calore poiché interessa evidentemente quello che ci interessa è l'energia emessa dai corpi per via della loro temperatura si considera solo quella radiazione termica chiamata semplicemente il raggiamento faccio notare che un corpo nero un corpo nero è un perfetto emettitore di radiazione in quanto emette la massima radiazione ad ogni temperatura e lunghezza d'onda e assorbe tutta la radiazione incidente indipendentemente dalla direzione e dalla lunghezza d'onda faccio notare che qui entra in gioco la cosiddetta parliamo di radiazione di un corpo nero la cosiddetta legge la radiazione di Boltzmann o Stefan Boltzmann perché la potenza radiante totale emessa da un corpo nero per unità di superficie che è chiamata potere emissivo del corpo nero è espressa dalla seguente relazione relazione chiamata di Stefan Boltzmann e con n è sigma t alla quarta e ovviamente abbiamo come unità di misura il watt il watt fratto il metro quadro sigma che è appunto la cosiddetta questa qua la cosiddetta costante di Stefan Boltzmann è pari se vi interessa a circa 5,67 per 10 alla meno 8 watt fratto ovviamente metro quadro kelvin alla quarta potenza costante di Stefan Boltzmann faccio notare che il potere emissivo cosiddetto del corpo nero risulta essere proporzionale come potete vedere la quarta potenza della temperatura assoluta è spessa appunto in kelvin ora poiché la radiazione visibile occupa una banda molto stretta dello spettro tra 0,4 e 0,76 circa non non è possibile giudicare se una superficie approssimi il comportamento del corpo nero sulla base unicamente della sola osservazione visiva un corpo che approssima il comportamento del nero è una grande cavità con una piccola apertura c'è adesso non ve lo faccio vedere c'è diciamo una c'è un piccolo foro e appunto lì si valuta la radiazione incidente e le riflessioni multiple le energie diciamo che c'è questo piccolo foro l'energia che giunge sull'apertura va a entrare nel piccolo foro nella cavità se le pareti di questa non sono nere un raggio incidente in parte verrà assorbito e in parte verrà riflesso attraverso delle riflessioni multiple la frazione riflessa andrà a attenuarsi e tutta l'energia verrà quindi assorbita salvo una quantità diciamo inapprezzabile molto piccola faccio notare come il potere emissivo monocromatico spettrale del corpo nero fornisca proprio la potenza cosiddetta potenza emessa in funzione della temperatura e della lunghezza d'onda e si definisce come tenete bene con attenzione la potenza radiante che viene emessa dal corpo nero alla temperatura assoluta T per unità di superficie e per unità di lunghezza d'onda nell'intorno della lunghezza d'onda lambda quindi ripeto questo potere emissivo monocromatico spettrale del corpo nero fornisce la potenza emessa che rappresenta proprio si definisce come potenza radiante emessa dal corpo nero alla temperatura assoluta T per unità di superficie e per unità di lunghezza d'onda nell'intorno ripeto della lunghezza d'onda stessa lambda faccio notare che per calcolarlo questo potere emissivo monocromatico si può utilizzare la cosiddetta legge della distribuzione indivinate un po' di Max Planck che si scrive in questo modo legge di Planck che ve lo ricordo andiamo a indicare in questo modo questo stiamo evidentemente calcolando il potere emissivo monocromatico che possiamo scrivere in questo modo evidentemente c'è una frazione c'è una linea di frazione al numeratore abbiamo evidentemente C1 e evidentemente C1 ve lo dico subito è circa 3,742 Watt su micrometro alla quarta fratto metro quadro e qui abbiamo poi al denominatore abbiamo la lunghezza d'onda alla quinta lambda alla quinta e qui abbiamo un E elevato C2 fratto lambda T meno 1 cose che comunque sono cose che ritroverete ecco questo ovviamente lo stiamo indicando con i Watt su in metro quadro per micrometro no? e ovviamente poi vi faccio notare come l'integrale della potenza radiante emessa che è un integrale in funzione di lambda che va da lambda da 0 a più infinito è proprio definito come il potere emissivo del corpo nero a temperatura T no? parliamo di un integrale proprio tra lambda uguale a 0 e più infinito proprio di di questo potere emissivo E con N lambda di T che non è altro che E con N che è proprio sigma T alla quarta questa appunto è l'integrale della potenza radiante emessa esiste su questo esistono dei grafici un andamento di una curva ma indipendente da qua indipendente da questo diciamo questo è questo che possiamo dire sulla trasmissione del calore per il raggiamento termico ovviamente abbiamo un po' sconfinato in altri argomenti anche riguardanti le onde lunghezza d'onda frequenza e luce vi rimando ovviamente ad altre trattazioni che potremmo fare in seguito non perdetevi i prossimi video sia di esercizi riguardanti questa parte sul calore ma soprattutto poi in seguito sui video riguardanti il primo principio e il secondo principio della termodinamica a presto ciao a tutti